Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, siamo nuovamente su Starbound Fracking Universe, la versione moddata di Starbound. Ho deciso di non pubblicare il video che avevo già pronto per voi perché era troppo lungo. In pratica che cosa volevo fare in questo video? Volevo cercare insieme a voi un pianeta e in realtà il pianeta l'ho trovato ma non in quel video, quindi ho detto, anche in virtù di quello che mi avete detto, di essere più conciso, più diretto nei video. Ho deciso di cancellarlo e farne uno nuovo. Vi voglio mostrare la mia base al momento. Ho trovato la base su, cioè ho costruito la base su un pianeta di una stella, Gentle Star, un pianeta normalissimo, un pianeta con un clima normale. Non guardate la mia tuta che poi vi spiegherò anche il perché. Ho questa mod, diciamo questa tuta così. Quello che volevo spiegarvi ora è effettivamente quello che non abbiamo mai visto finora, cioè che cosa porta questa mod di nuovo, perché abbiamo visto solo le fasi iniziali del gioco e poi io non giocandoci da una vita non sapevo cosa fosse nuovo o cosa fosse vecchio. Allora, prima di tutto vi mostro il mio sistema. Allora, dato che qua non so se è un bug, non so se il terreno si bagna solo quando vuole lui e non quando piove, quindi le colture crescono molto a rilento, ho messo queste trappole. Le Pest Trap mi raccolgono cinque topi luna. Ho anche sbloccato il doppio salto, come avevate detto, che avevo mancato l'appuntamento con la quest, l'ho presa. Io ho anche la possibilità adesso di mettere le bombe quando diventa una palla, poi ve lo faccio vedere, se mi ricordo. Allora, in pratica, allora, vedete qua, tac, raccolgo altri cinque topi. Questi qui si ricarichano anche piuttosto velocemente e i topi, ovviamente, potete mangiarveli oppure ve li cucinate. Esiste una stessa cosa che vi raccoglie le aragoste nel mare, quindi voi vi cucinate la vostra aragosta al vostro topo e lo mangiate. Guardate, adesso siamo alla fame proprio quasi a zero e vado a prenderlo e lo mangio. Due, tre, quattro, cinque, sì, sei topi e siamo sazi, quindi direi che è un buono sistema di alimentazione. Bene, qua ho messo questo per raccogliere i bacchi da seta, per fare la seta, e vedete che qua ci sono delle carote che però non crescono, per lo stesso problema che abbiamo visto prima, quindi se avete un suggerimento su come far crescere qua, è ben accetto. La base, ve la faccio vedere subito, vi faccio vedere che cos'è che porta questa nuova mod. Perché la mod, abbiamo visto, aggiunge un sacco di razze, razze che non ho fatto perché sono partito umano, però la mod aggiunge un tavolo che io poi ho evoluto a livello massimo, che è questo, che ci consente di creare tutte delle parti. Allora, prima di tutto, distinguiamo i pannelli da quelli della mod a quelli del gioco normale. Quando vedete questo pannello così ultra futuristico, ultra science, fa parte della mod. Qua creiamo tutte le parti, quindi i power core, tutte le parti di schede madre, RAM, processori. Possiamo andare poi a creare anche dei tavoli, alcuni io li ho creati. Landmill, la sprouting table, cioè in pratica dove possiamo andare a fare veramente di tutto, guardate quanti ce ne sono, possiamo fare il checkpoint, quindi piazzandolo veniamo rigenerati lì in caso di morte. Questo ci permette di scaldare l'ambiente esterno, c'è il personal computer che ci genera scienza, molto lentamente. Un shield generator crea uno scudo protettivo, magari se facciamo una base su un pianeta ostile, credo serva a quello. Il tool upgrade table, insomma abbiamo un sacco di cose. Qua abbiamo dei teletrasporti angelici, dei music player. Abbiamo la possibilità di cambiare la razza degli oggetti. E qua sono dei potenziamenti per la nave. E qua abbiamo altre cose, tipo la possibilità di craftare robot che ci aiutano e la loro station di cura. E qua in fondo poi abbiamo una sorta di terraformer, praticamente ci consente di cambiare una zona di un pianeta, cerco scritta, in un microclima che noi scegliamo. Questa è la prima. Poi abbiamo anche questa, che è un laboratorio biochimico, dove possiamo creare altre cose, un sacco di cose. Dalla plastica avanzata, il sangue, il mercurio, l'acido solforico, le bombe, un sacco di cose anche queste, che sono dei propulsion strip, che ci consentono di creare tipo dei tapirulani in cui camminiamo, credo serva a quello. Qua inoltre abbiamo messo anche una sorta di estrattore. Praticamente, piazzandoli poi a fianco questo, che è un monitor, ci consente di capire che cosa andiamo ad estrarre se mettiamo all'interno un determinato oggetto, tipo se ci mettiamo dentro il sangue, otteniamo ossigeno. Se ci mettiamo dentro, vediamo un po' se mi dà la water. Beh, ma in caso possiamo anche farlo. Praticamente ne ho da vendere, poi vi spiegherò anche perché ho così tanta acqua. Ok, vedete? Che inizia ad estrarre. Estrarrà probabilmente idrogeno e ossigeno, così a memoria. Infatti vedete che è stato due di idrogeno e uno di ossigeno. Sono anche quelli materiali da crafting. E sono, ossia le prime due, l'estrattore no perché non si può aggiornare, va creata una versione più bella a parte. Questi due invece sono due tavoli già completamente aggiornati al massimo livello. Significa che aggiornandoli al massimo livello ottenete più oggetti, più ricette. Io credo, ma devo ancora chiarirla bene con una nostra cosa, che lui probabilmente lo sa, se craftiamo, scopriamo dei materiali nuovi, si dovrebbero sbloccare nuove ricette, ma non ne sono sicuro. Questo è un tavolo invece per la creazione di armature, ed è il motivo per cui ho fatto la mia armatura da ricercatore, che mi consente di essere immune a ossigeno, quindi mancanza di ossigeno, quindi bisogna andare sott'acqua, veleno, gas e acido. Me ne servirebbe una adesso, per il freddo, quindi adesso i pianeti ultraghiacciati dovrò fare la salt. Ma la salt mi chiede della penumbrite e dell'electromagnet, che quello, vabbè, lo posso craftare dai componenti prima che abbiamo visto qui, con i processori, così. Però la penumbrite non la conosco, quindi devo andare a scoprirla. Cosa bella, vabbè, ho fatto, e qua non so se vedete, ho fatto un sistema elettrico. Il sistema elettrico dovrebbe già esserci nel gioco base, però andando avanti, qui, possiamo andare a fare la generazione dell'energia, che nel gioco base non c'è, che ci consente di accumulare energia, e questa energia ci serve per utilizzare determinati macchinari. Io dico, sottolino, è un peccato che anche questi non abbiano bisogno di energia, perché avrebbero incentivato molto di più lo sfruttamento dell'energia elettrica, dell'accumulo di energia elettrica. Comunque, ho cablato questa cosa molto simpatica, perché qua vedete una cassaforte con tutti i miei materiali, nel momento in cui voglio entrarci, la porta non si apre da davanti, devo andare qui in questo pad, attivarlo, mi si accende il monitor, scatta l'allarme, è un po' scomoda, ma fa scena, volevo farla in video. Allora, devo riprendere in mano questo, ok? Vedete, qua suona, posso entrare, e qua ci sono tutti i materiali nuovi e non nuovi che ho trovato finora, e tanti li ho anche in mano. Qua invece ho carfattato dei manichini, su cui metterò le armature che trovo nuove. Lì sotto, vedete, adesso vado a spegnere, perché sennò vi assordo con questo rumore. Sì, è un po' scomodo, ma fa tremendamente figo. Vedete che si chiude la porta, e quindi siamo a posto. Poi, dicevo, ahia, qua ho fatto un po' una zona scena, una scena un po' così con... Potrei pensare di metterci giù qualcosa di tossico, tipo di veleno, lo butto giù e faccio una zona vecchio, radiatore, reattore, nucleare, però vabbè, vabbè. Qua sotto, invece, vabbè, teletrasporto, che ho creato con un teleporter, poi ho un'altra base che vi farò vedere a breve. Qua abbiamo altre cose, questo potenziamento. Allora, usando la mod, ho creato un detector. Allora, prima di tutto un mining laser, vedete che qua possiamo... Lui rileva tutto quello che abbiamo creato che è potenziabile, escludendo il manipolatore di materia, anche quello ha un potenziamento a parte, che è il classico che c'è nel gioco base. Mentre invece ho creato questo... Questa cosa qui che fa veramente paura, perché distrugge veramente un sacco di roba. Tra l'altro anche lo sfondo, quindi... È un bel problema. Potenziato. Mentre invece l'altro, il detector... Ci sono due detector, il detector di materiali dove ci fa vedere tutto, oppure la possibilità, premendo shift, usando il tasto di attivazione di questo detector, di selezionare che cosa vogliamo rilevare. Quindi noi trasciniamo il metallo che ci interessa qui, qualche secondo, e poi premendo il destro, il gioco ci mostra, lampeggiando di verde, le zone dove il materiale si trova. Quando andiamo in profondità, ovviamente adesso non abbiamo trovato nulla. Questo era il potenziatore. Questo invece è un'altra cosa interessante, perché hai l'Electronic Center. Qui c'è tutto quello che potete volere richiedere dalla vita, per quanto riguarda la creazione di sistemi automatizzati. Quindi la pompa dell'acqua, i raccoglitori di materiali, il sensore che rileva quanto è pieno magari un forziere, insomma un ripetitore di segnale. Veramente potete fare di tutto un terminal che prevede accesso a tutti gli storage connessi. e quindi potete farvi il vostro impianto. Qua abbiamo la Power Sensor, che praticamente il display mostra la quantità di energia presente. La Power Sensor, l'incinerator, la pompa dei liquidi, la Mechanics Branch che ho craftato, devo ancora provare, che è una chiave inglese, che ci permette di giocare all'elettricista. Questa è una pompa pressurizzata di espulsione, quindi dovrei rilasciare i liquidi. Tra l'altro, tra l'altro dovrei anche farla questa, perché adesso la voglio fare. Vabbè, intanto vi mostro questo. Volevo solo vedere che cosa mi serve, perché era quello che sto cercando e non lo trovavo. Tungstainer e vetro. Ok. Altro che possiamo fare, appunto, altre centrifughe, Liquid Collector, Liquid Mixer, possiamo fare veramente il mondo. E qua invece l'alternatore, il generatore di combustione, i pannelli solari, la turbina sui pianeti dove c'è tanto vento, l'accumulatore, quindi una batteria, e qua invece dei... Qua è un casino perché è programmazione. Tutte le funzioni logiche dei circuiti, oltre che le torrette. Credo siano torrette fisse, quindi potete metterle in difesa della base in modo completamente automatizzato. Beh, qua sotto non c'è molto da vedere, perché ho preso questo, che ho comprato l'uovo, l'ho pagato un sacco, perché praticamente lui ogni tanto ci genera un componente elettronico come prodotto. Mi serviva, diciamo, per fare una cosa, adesso non mi ricordo più che cosa ho craftato, ma mi serviva, allora l'ho comprato, l'ho allevato, era prodotto solo quello, poi non ha più prodotto niente, quindi potrei anche pensare di eliminarlo. Beh, intanto, devo finire la visita. Allora, qua ho potenziato a livello quasi massimo la zona di produzione dei tessuti, però qua è vecchio. Anche questo è vecchio, è vecchio anche questo, sono tutte cose del gioco base, perché ovviamente il gioco mixa. Non è niente di indispensabile quello che trovate in questa modda per quanto riguarda il finire il gioco. Il come finirlo, invece la modda lo fa eccome, perché consente di facilitarci la vita. E ovviamente ce la facilita, ma ad un prezzo piuttosto alto, perché... perché... dobbiamo comunque sudarci tutto. Non mi ricordo che material mi serviva. Vedete che qua abbiamo veramente di tutto. Niente, mi sa che quello che mi ha richiesto non mi serve. Allora, adesso vi faccio vedere altre cose, sempre della mod. Intanto chiudo. Questa porta stagna, ma ormai tutte sono stagne come porte. Poi vabbè, ho messo questo did per creare una sorta di base, questo tizio qui venuto giù ad abitare e mi dà una mano... no, non mi dà una mano, intanto mi dà una questa e quando esce il simbolo del regalo qua posso andare da lui e mi dà qualcosa che possono essere pixel o meno. Questa è un'altra, un tavolo dello stagnino che possiamo poi potenziare col tungsteno e ci produce appunto queste cose per creare la base, il cave detector, per rilevare le caverne, il mining laser e tutto quello che abbiamo craftato ora. Qua non ho ancora niente, probabilmente si sbloccherà andando avanti e qua invece campo cinetico, sono tutte rebreather, ricicla al 100% dell'ossigeno marinata, io ho già montato una cosa qui che produce energia. La cosa assurda è che se non avete il casco, questo qui funziona comunque, quindi anche se siete senza atmosfera ad una temperatura assurda, sopravvivete lo stesso. Qua ho craftato un frigo dove mi tiene al fresco le cose che invece vanno a marcire, perché ovviamente qua sta iniziando il topo qui a sapere di marcio, quindi magari me lo pappo tutto io. Cheat! E questo invece, vabbè, è sempre il gioco base, praticamente quando abbiamo top pixel possiamo andare ad accumularli comprimendoli e mettendoli poi in cassaforti. Adesso lo piazzo qui, il pixel, perché non ho intenzione di starli ad aprire nuovamente tutto. Adesso mi ricordo dov'è. qua, eccolo qui, te lo mettete qua. Sto aspettando perché voglio farmi sottomarino, perché passiamo adesso alla cosa più interessante, relativamente più interessante, che è l'altra base che ho. Per cui io sto cercando di craftare questa cosa che ho visto qui presso Rized tungsteno. Eh, il tungsteno non ce l'ho purtroppo, devo andare a cercarlo, e il glass invece lo posso creare o fare tranquillamente. Dovete anche macinare una quantità assurda di carbonio, scusate, di carbone per fare il carbonio e soprattutto centrifugare la sabbia per ottenere il silicio che è il materiale base per craftare tutti i circuiti. Allora, voglio solo vedere una cosa, tungsteno, tungsteno e vetro. Allora, il vetro lo si fa semplicemente andando nella fornace, seconda schermata, sabbia, posso farne 8, faccio 8 di vetro, così almeno. Vedete che qua c'è il carbonio con il... ma infatti mi si è sbloccato prima dovevo farlo, vabbè, estraendo il carbone, vabbè, tanto meglio. Perché ci sono varie cose per craftare, vari modi per craftare e ognuno ha un'efficienza diversa, quindi bisogna anche calcolare quello. vabbè, qua è una zona dove qua incubo le uova, ho messo... ho trovato un uovo nero e erano usciti dei mostri che comunque erano amici, non ostili, e vi faccio vedere quest'altra. È in sviluppo e benvenuti nella nuova Rapture. Qua prende senso quel discorso che vi dicevo della... del... di quell'accumulatore, diciamo, di quell'estratore di liquidi, perché volevo fare... ho fatto questi, ma in realtà qua c'è un espulsore standard, servirebbe l'espulsore di liquidi, in pratica quando io apro l'acqua entra, sale, entra qui e verrebbe buttata fuori da qua. Quindi voglio creare un sistema automatizzato in questa mia base subacqua perché è un pianeta oceanico, quindi ci sono ben pochissime isole molto piccole sopra. Voglio creare tutta una base subacqua e quindi questo è praticamente uno strumento che io ho craftato e... che praticamente va e... è fatto un po'... esiste anche la versione mineraria in cui voi lo piazzate, questo si allunga, adesso qua non si allunga, sì, si allunga, pian piano, va sotto, accumula l'acqua, cioè prende il liquido che trova e ve lo butta qui. Quindi pensate con tutti i sistemi automatizzati che cosa potete fare. Insomma, quindi potete magari estrare in un ambiente dei liquidi, potete trasferirli, un sensore poi riconosce quando una cassa è piena, li va a trasferire, insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta ed è l'aggiunta che ha portato questa mod. Allora, questa è la Mechanic Ranch che non so cosa sia, quindi io adesso la prendo e vediamo che cosa succede. Ah, ok, in pratica è quello che fa già questo, credo. Infatti, non cambia niente, non dovrebbe cambiare nulla. No, perché il collegamento è lo stesso, quindi non cambia niente. Qua poi, vabbè, ho studiato un sistema complicatissimo di isolamento dell'ambiente in cui possiamo uscire e andare a vedere, vedete che abbiamo raccolto delle ragoste. Questo è un bel pianeta, è la prima volta che ne trovo uno, voglio comprare il sottomarino dal venditore all'outpost. Io in realtà avevo scaricato una mod che era il sottomarino, però non so adesso se è prevista anche in questa mod o c'è già nel gioco base, comunque io l'ho trovato da comprare, vorrei prenderlo così mi esploro in pace questo mondo. Volevo solo farvi una cosa al cazzeggio adesso, un attimo, perché vabbè, questa è una è un'arma unica, vedete che c'è scritto unique, ed è la pistola, il fucile di Tesla, quindi lancia delle scariche che non è niente di che a livello di potenza nel gioco esiste di ben più complicato, però insomma però mamma mia come la sono schierata e me la sono presa comunque dopo ok, addio, mai più rivederci allora ragazzi io adesso voglio fare piazza pulita di quest'isola ok questo è un osso duro sta anche piovendo ok ci ha mollato un cryonic extract vabbè niente comunque vige la regola di maffi in questo gioco quando cercate qualcosa non lo troverete mai fino a che non lo cercate più e a quel punto salta fuori allora vedete che in questo punto noi stiamo pescando e per pescare vabbè è sempre gioco base io presumo potete scegliere il tipo di lenza il tipo di esca vedete che il pesce inizia a seguire e poi dobbiamo essere bravi noi a tirarla su senza aia senza romperla abbiamo rotto la lenza e una volta che riusciamo a raccogliere abbiamo del cibo credo del cibo perché ci va anche nelle collection che è una cosa di cui vedete che ho accolto questo e niente solo scopo collezionabile niente a questo punto io vi faccio vedere un'ultima cosa la mia nave allora potete usare i teletrasporti per andare nei teletrasporti che avete acquistato oppure andare sulla vostra nave che si può trovare anche dall'altra parte dell'universo e quindi andare vedete siamo in questo sistema binario e siamo su questo pianeta dove fortunatamente la mia tuta mi protegge ho lasciato qua il mio socio che mi segue sempre il robottino fa anche battute simpatiche però fa un danno veramente imbarazzante questo è un pianeta estremamente ostile perché è acido ma l'armatura mi protegge allora in questo caso adesso ne approfitto vado a usare il mio mega laser sto prendendo anche danno ma non so di cosa perché credo venga su qualcosa dal terreno anzi nella verità c'è una tempesta in corso quindi vedete che io posso adesso scansionare mi serve il tungsteno giusto per fare quella cosa quindi vado ne premo qui il tungsteno lo piazzo qui vedete adesso me lo restituisce però adesso è configurato premo vedete me l'ha scansionato e so che c'è di là questo pianeta è durissimo da scavare anche se ho potenziato il laser è veramente durissimo quindi non ricordo quanto mi serviva da di tungsteno però un po' ne abbiamo trovato sto prendendo anche il carbone perché a un certo punto vi accorgerete che le materie base che vi servono servono veramente tante vedete che poi scava proprio distrugge tutto anche lo sfondo quindi è comodo fino a un certo livello perché vi consente di teletrasportarvi via ovviamente se fate la base è sconveniente usarlo perché poi dovete anche ripiazzare tutti i pezzi ho trovato anche questi metalli qui che sono abbastanza rari prossima ah beh ma tanto sono immune all'acido quindi guardate quanto ce n'è di là adesso mi so che ad alcuni di voi piace vedere la gente che scava quindi io scavo dai dai tungsteno tungsteno viene a me eccolo lì guardatelo sullo sfondo ma in questo caso mi sa che non scaverà sullo sfondo quindi dobbiamo prendere questo e premere il tasto a destra musiche di questo gioco sono veramente stupende un altro punto su cui non avevo mai discusso ok torniamo alla 3 ah eccolo lì guarda quante guardate quante ok dai tungsteno e poi così almeno avrò creato uh quello lì cos'è quello lì è oro ah ce n'è ancora mamma mia che pianetone questo oro sì anche l'oro l'ho cercato per delle ore non l'ho trovato alla fine ho smesso ho detto chi se ne frega butto via questa che la distruggo la gente so che i puristi di voi mi diranno ma no si butta via niente chi se ne frega ok abbiamo fatto ci torniamo a casa fondiamo il 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 tutto vi dico a dire la verità me l'avete chiesto di proseguire con questa serie non che stia facendo dei delle visualizzazioni giusto per farmi capire mamma mia è piaciuto tanto siamo sempre lì insomma quindi vabbò allora tungsteno tank abbiamo fuso tutto perfetto adesso giusto che sono imperdonabile perché non vi ho mostrato questo questo è praticamente la produzione di parti della nave devo ancora capire bene a cosa serve perché c'è il potenziatore della velocità di luce l'intera faccia sail non so se sia tutta la mobilia insomma è già potenziato non credo sia potenziabile ulteriormente però non ho molto capito il senso di questo tavolo anyway liquid pump input vedete pressurized release liquid ok l'assemblo assemblato a questo punto possiamo tornare di là nella base subacquea e vedere se riusciamo a farlo funzionare anche se la vedo dura perché dice pressurizzato quindi vabbè che allora questo non serve a niente ve l'ho messo per farvi vedere vedete che io adesso chiudo quello di qua ok avevo messo questo però questo qua è uno standard output e non va bene dobbiamo provare a mettere il pressurizzato pressurized output pump perfetto possiamo provare adesso con questo a connetterlo io non ricordo attualmente che cosa devo premere quindi devo tornare su lo rimetto questo lo ripiazzo no 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 ok volevo togliere questo non il mattone porca bestia ok vabbè tanto ho la tuta quindi non perché c'era scritto liquid pump input red connected to liquid ok allora in teoria adesso potremmo dovremmo rosso con il blu no non me lo connetti sì funziona funziona mamma che figata cioè praticamente io adesso se butto dentro tutta l'acqua l'acqua si riempie ma allora scusate a questo punto io direi che questo possiamo pensare di metterlo dai questo ok lo possiamo mettere qua sotto perché no allora vediamo se funziona standard no liquid pump input lo piazzo qui lo connetto con il non mi ricordo più se era il rosso ok ok sì funziona perfetto perfetto praticamente questo butta tutta l'acqua fuori è un peccato che anche questo non ha bisogno di corrente però insomma possiamo lasciare un ambiente pulito magari andando a fare una cosa un po' più elegante tipo qua l'acqua scende qua facciamo magari un ripiano così una base che va leggermente sotto perché qua poi io ho scavato tanto anche la sabbia molto bene e quindi in pratica che cosa succede? succede che sono un pirla ok cioè in pratica adesso se io vengo qui costruisco questo apro l'acqua va giù ma viene buttata fuori e abbastanza sì insomma però nel momento in cui io smetto tutto viene ribilanciato direi che a questo punto posso anche rivedere questo sistema qui di di botole e fare la base un po' più agevole ok questo apre avrei scoperto questa cosa insieme a voi apre notevoli spazi di miglioramento per il futuro dove la nuova rapture è prossima a nascere ragazzi spero di avervi portato un episodio interessante di starbound fracking universe mod fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito e io vi saluto come sempre alla prossima ciao ciao grazie a tutti